Abbiamo qua Giuseppina Mariscalco, buonasera, qui alla Notte delle Missa al Carosso di Biandrate. Le tue ambizioni, Giorgia, in questo concorso? Eh, voglio un po' più. Nella vita cosa fai? Eh, niente, veramente non sono raggiunto fatti. Hai già finito le scuole? Sono arrivata nella terza media, per tanto. Ti piacerebbe quindi un percorso nella moda? Sì, sì. Ok, noi ti auguriamo questo successo e un in bocca al lupo per la serata. Grazie Giuseppina. Grazie. Grazie. Grazie.